buonasera ragazzi buonasera a tutti ci siamo ci siamo come va fatemi sap se si vede fatemi sapere se ci siamo dovremmo esserci aspettate mi metto anche il sound del gioco allora allora abbiate pazienza del ritardo ma è non facevamo live da un po quindi ho dovuto aggiornare parecchie cose tra cui anche il gioco tra l'altro quindi che è uscito da poco in realtà ho già spippolato un pochino per vedere come si poteva organizzare se fare una serie sul canale o se farlo in live ho deciso di farlo in live perché ho diversi giochi di questo genere questa sera come vedete siamo con demolition build 2018 nel tag del gioco dovrebbe essere il 2017 perché su twitch magari il 2018 ancora non l'hanno inserito nella libreria dei giochi quindi se vedete il titolo di descrizione del gioco il 2017 ma noi giochiamo il 2018 che come detto è uscito da poco quindi ci sono vari aggiornamenti in corso e siccome ci sono diversi giochi di questo genere che vi voglio portare facciamo delle serie dedicate al manovale che è in noi come vi avevo detto anche nel post quindi abbiamo iniziato con gold rush poi riprenderemo anche le live degli altri giochi compreso kingdom come deliverance che sto aspettando un pochino diverse patch che stanno uscendo in questo periodo come chi segue un po le varie news sa che stanno preparando diverse patch una appena uscita una un'altra uscirà altri giochi di questo genere ve li porto non so se oggi ci facciamo solo questo o poi schippiamo su un altro titolo come detto abbiamo fatto gold rush o sì anche house flipper come detto demolition build tanti ho una lista su steam veramente molto corposa quindi faremo giochi dedicati appunto al al manovale che noi diventeremo diventeremo manovali comunque intanto ringrazio i verb per la sottoscrizione a per il decimo mese tra l'altro quindi bene così si alzo un pochino il volume del microfono calcolate che adesso abbasso anche un po il volume di gioco anzi forse le le musiche le tolgo proprio perché onestamente so che ci sono delle musiche durante il gioco ma non so se siano coperte da da copyright quindi nel dubbio le togliamo le mettiamo proprio basse va bene tanto creiamo un altro profilo e andiamo così con il classico se si può fa modifica l'aspetto allora vediamo che soggettoni ci sono vabbè un po così andiamo con questo con la camicetta va possiamo selezionare la modalità difficile nessun aiutante al senso del lavoratore costo contrattuale aumentato rating azientale che la più bene può essere modificato no vabbè lasciamo la modalità normale senza andare in modalità mega difficile e adesso partiamo come poi vi dico penso che questi video ve li riporterò sul secondo canale come ho fatto con gold rush con kingdom e ricreeremo appunto una serie di giochi dedicati a questi tipo farming simulator che avevamo fatto e tanti altri del genere questo sarà un altro dei titoli che vi porterò con questo stile questo genere spero che vi garba vi possa garbare ma ci infonieremo come se non ci possono domani comunque saluto tutti quelli che si stanno unendo e buona serata a tutti spero che la caudino vada a coprire cose importanti va bene il caso vi dico io il gioco è anche in italiano creiamo il nostro profilo e partiamo con la nostra partita c'è anche il multiplayer la nozio allora opzioni aspettate che vado a volume di musica guardate lo metto giusto 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 a filo perché come detto anche se non lo sentite non fa niente anzi forse è meglio perché come detto non so se ci sono problemi di copyright per quanto riguarda la grafica adesso vediamo perché di solito siamo ad ultra vabbè non è che questi giochi abbiano una qualità visiva estrema più che altro la pesantezza dobbiamo vedere partiamo con la nostra avventura la nostra impresa anche in realtà non è la nostra impresa al momento vediamo un pochino e no ce ne sono tanti di questi giochi ne ho veramente una marea da proporvi alcuni anche un po' più vecchiotti però piano piano scopriamo allora aspetta sei ancora lì ci hai messo parecchio far aspettare il nostro cliente è un male per il business allora aspettate grazie mille a chitarrid per la sottoscrizione spero di leggere bene abbiate pazienza c'è un po distante la scritta quindi mi devo un attimo focalizzare e mettere a fuoco grazie mille per la sottoscrizione comunque e allora il cliente ok aspetta andiamo con il mouse è meglio se inizi a lavorare sul contratto quanto prima non mi serve che tu batta la fiacca durante l'orario di lavoro non sai come accettare il contratto basta che interagisci con il segno di demolizione accanto a te non so perché ti pago ancora mettiti al lavoro ok questo è il nostro datore di lavoro e già dalla faccia possiamo vedere che abbastanza incazzoso e grazie mille anche a dardo per la sottoscrizione per il decimo mese attenzione e sul canale se riesco domani ora vediamo perché comunque è presto quindi se andiamo avanti facciamo un bel po magari ve lo divido questi video magari ce li giochiamo capiteranno anche live molto lunghe con questa tipologia di giochi poi ve li divido e ve li riporto sul secondo canale come serie tra virgolette normale magari il video sarà di un'oretta riportato anche se ci giochiamo quattro ore ve lo divido in quattro poi con calma che solo vuoi rivedere comunque i contratti sono una buona fonte di denaro nel menu lavori premendo esc puoi controllare i contratti disponibili per accettare un lavoro interagisci con il segnale o il cliente qui abbiamo il segnale perfetto quindi noi al momento siamo in questa condizione spero che si riesca a vedere bene non credo che vado a coprire troppo la caudino nella parte superiore i soldi li vedete va bene comunque li abbiamo anche il tutorial questo è il primo scenario che ci mette a disposizione live su next car game non lo so è probabile che ve lo riporti come video normale più che altro allora stiamo trasformando questo vecchio casino in un ristorante ma prima che possiamo iniziare la ristrutturazione occorre togliere alcune pareti assicurati anche di portare via quelle slot machine ok ma come 5 dollari ma questo è sfruttamento della manovalanza usa i sensi del lavoratore r per evidenziare gli oggetti del compito può anche mostrare quale parte di un edificio è più vulnerabile quindi con r vedete ci va a segnalare quello che noi dobbiamo demolire o quello che dobbiamo fare qui dobbiamo buttare porta le sedie nel container e rimuovi i cavi elettrici quindi le sedie sono queste qui le prendiamo con f e le buttiamo nel container bam ok una è andata sono quattro le sedie ora devo un attimo capire se a livello di prestazioni ci siamo perché nel senso calcolate che stiamo facendo anche lo streaming e questi giochi per quanto semplice per quanto non graficamente il top però sono comunque giochi ragazzi sviluppati da team indipendenti quindi poche persone l'ottimizzazione manca un pochino nel senso capite bene che per ottimizzare un gioco a livello hardware e farlo girare cioè questo potrebbe benissimo girare su una macchina di tanti anni fa però risulta pesante anche su pc più attuali appunto per una questione di ottimizzazione ora vediamo abbiamo messo tutto al massimo per quanto come detto sia abbastanza limitato visivamente ma ci sta ci sta l'importante che noi qua spacchiamo dei culi allora dobbiamo rimuovere i cavi elettrici che sono questi qui ok li rimuoviamo con il tasto azione quindi con f ok anche questo è fatto ora demolisci l'interno delle pareti demolisci le statue di leone sul tetto allora spero no ho fatto ho cambiato cosa intanto saluto tutti quelli che si stanno ancora unendo e quindi adesso dobbiamo demolire le pareti e i leoni sul tetto poi vediamo come andiamo con la ma se facciamo una cosa se noi puntiamo e vabbè adesso con questo è un po più complicato nel senso che ci vuole un po più tempo però se togliamo le basi del muro dovrebbe crollare in linea teorica ok no crolla crolla qua rimane attaccato perché sta da st'altro lato evidentemente è molto portante contro un po' ogni fisica grazie mille a treno uololo per la sottoscrizione grazie mille grazie mille e noi qua lavoriamo e qua facciamo un po' di manovalanza aspetta che è rimasto appizzato il muro ok continua a reggersi ah c'è questo pezzettino dai che ce la possiamo fare aspettate che insistiamo un attimino qua perché sennò facciamo un macello aspettate che così mi sposto un attimo la tastiera che sto più comodo ok allora il muro questo è andato ce n'è un altro ce n'è un altro aspettate che ci siamo incartati qua possiamo abbassarci sì grande almeno andiamo direttamente alla all'origine del muro poi naturalmente ci sarà da acquistare macchinari e quant'altro e quindi adesso facciamo a mano questo è allora dobbiamo demolire le statue di leone sul tetto quelle lì? sì allora ok qui c'è una scala approfittiamo di faccia proprio ci arriviamo nella scala va bene spacchiamo anche le statue aspettate la coda ok è crollata la statua un pezzettino vai di prepotenza vai di prepotenza olè grande tutti i compiti sono stati completati vediamo un po' stiamo trasformando questo ah no finalizza sì però 5 dollari è un po' una barbonata comunque vabbè noi lo prendiamo per buono questo ci danno comunque ah poi ci sono anche altri giochi che vi voglio portare a parte questi di questo genere ora per dire questa è una rubrica dedicata al lavoro poi vediamo un pochino comunque ci ha dato alla fine 107 dollari praticamente 102 di bonus ma va bene va bene e vediamo un pochino vediamo un pochino quale sarà il nostro prossimo compito voi come sempre ragazzi fatemi sapere poi anche quando ve lo riporterò sul secondo canale se vi garbano questi giochi aspettate ci stanno chiamando ho appena ricevuto una chiamata dal cliente che poi questi giochi il bello è che sono di una semplicità ma di un infognante non so sarò io però questi giochi mi fanno infognare tantissimo come era stato anche per farming simulator poi magari ci rompiamo le palle dopo poco però all'inizio è faico va bene a parte questo ha detto che avete rotto le inestimabili statue del leone allora era scritto sul contratto mi scusi che intendi dire che era la parte del contratto ecco appunto il cliente ha sempre ragione scordati il tuo stipendio ne ho avuto abbastanza sei licenziato non farti più vedere un branco di orsi addestrati avrebbe fatto un lavoro migliore bene partiamo con un bel licenziamento perché abbiamo spaccato le statue che non dovevamo spaccare trova un lavoro aspetta e ho sentito che il capo ti ha licenziato si è girata subito la voce non preoccuparti anch'io ho lasciato il lavoro quel babbeo a paghi ridicole per non parlare che puzza come una scimmia senza detto che ne dici di diventare partner e avviare la nostra azienda con voglio dire con i nostri macchinari e utensili ho trasferito un po' di contanti sul tuo conto a 13.000 dollari grande ho anche contrassegnato una bella proprietà in vendita sul tuo gps baci e compra l'ufficio dovrebbe essere perfetto per la nostra nuova azienda eh ci mettiamo in proprio attenzione qui già a proposito cerca un segnale di parcheggio lì vicino puoi consegnare lì il pick up in questo modo non devi andare dappertutto a piedi ok quindi nuovo tutorial puoi investire contanti per acquistare dei terreni devi finire una serie di compiti per ottenere dei profitti vediamo se c'è qualcos'altro usa i tuoi sensi da no questo già avevamo letto grazie mille a little c'è per la sottoscrizione grazie mille grazie mille quindi dobbiamo prima di tutto prendere il pick up dobbiamo utilizzare il simbolo del parcheggio questo che roba è per mostrare suggerimenti sui parcheggi usa il segnale di parcheggio per trasportare i veicoli nel tuo luogo attuale va bene quindi noi andiamo qui al momento l'unico veicolo che abbiamo che dovremmo avere è appunto il pick up poi possiamo acquistarne altri ecco qui il nostro pick up tra l'altro lui ci ha segnato sulla mappa il l'obiettivo che è questo qui al momento la mappa è questa però calcolate che ci sono altre zone io nella mia prova che come detto mi sono infognato tantissimo ero arrivato appena alla seconda mappa cioè ci vorrà comunque un bel po' per arrivare là cioè quindi ci vorrà va bene prendiamo il nostro pick up e con estremo a cattiveria e sportiveggianza non prendiamo il paletto perché qua le collisioni sono un attimo così e andiamo verso quello che dovrebbe essere appunto il nostro ufficio dobbiamo abbiamo scoperto un garage poi naturalmente qua la cosa migliore sarebbe anche queste zone qui che possiamo scoprire è meglio passarci vicino perché poi possiamo trasferirci tramite il trasporto automatico ok dovrebbe averlo già segnato questo non lo so spero di sì con un taxi ci possiamo trasferire come se non ci fossero domani non è che vada fluidissimo in realtà come detto è per il fatto che stia anche streamando questo un pochino rallenta il tutto dopodiché dopodiché vediamo anche qui c'è un tutorial che noi ce lo mettiamo puoi investire compiti ottenere profitti quindi dobbiamo acquistare questa proprietà devi stabilire qui il tuo ufficio per iniziare a lavorare costa 10.000 quindi i soldi che ci aveva dato il nostro collega se ne vanno subito all'aceto acquistiamo acquistiamo va bene grazie mille anche a Dade 108 per la sottoscrizione grazie Dade grazie allora nessun materiale richiesto rimuovi le assi dalla finestra e dalla porta e demolisci le rovine accettiamo i compiti quindi andiamo a vedere dobbiamo demolire quelle rovine e togliere le assi dalle finestre per rendere attivo il nostro ufficio come vedete nelle zone da demolire quella parte verde diciamo non essendo portante conviene beccare la parte rossa e in linea generale non è che dobbiamo togliere proprio ogni pezzo a parte che se ci facciamo cascare le rovine in testa non è propriamente il top però vabbè intanto non ci facciamo male possiamo qualche pezzettino anche lasciarlo perché va percentuale quindi ecco già basta così per basterebbe noi poi scassiamo tutto scassiamo tutto e togliamo anche le assi allora sempre col martello con il martello possiamo fare tutto noi alcune assi sono anche lì sopra quindi io mi arrampico subito sul tetto e iniziamo a dare una mezza ripulita qua sopra e ci sono altri assi qui sul tetto no perché il tetto è solo qui quindi bam spero che credo che ci spezziamo le cosce aspetta che apriamo anche a porta finite con una sola martellata qua riusciamo a fare degli uffici nuovi va bene allora il nostro ufficio a quanto pare è pronto finalizza eccoci qua con il nostro nuovo ufficio grande così va bene vediamo un pochino allora di andare avanti con i compiti quelli che ci darà il nostro collega presumibilmente adesso elaboriamo un piano un piano per visto che ci ha licenziato quell'altro allora come va tutto a posto tutto sommato già fatto eccezionale eccezionale ora abbiamo bisogno di macchinari pesanti per ricevere contratti migliori ho contrassegnato il negozio di macchine sulla mappa puoi andarci in auto aprire la mappa e usare un taxi cliccando sulla posizione per un viaggio veloce quindi andiamo a vedere sulla mappa dov'è il negozio di macchinari abbastanza distante se noi clicchiamo prendi ok si prendiamo il taxi che ci frega ci andiamo direttamente ok e acquista un bulldozer nell'officina meccanica voi lo vedete si perché non è coperto da nessuna scritta quindi in alto a destra abbiamo diciamo quello che è il nostro obiettivo attuale questi sono i macchinari al momento disponibili poi ce ne saranno presumo anche di più non lo so comunque il bulldozer dovrebbe essere questo qui se non sbaglio yes usato per demolire strutture in legno e spingere sabbia costa 2000 dollari così poco non penso che sia un prezzo di mercato perché altrimenti tutti avremmo un bulldozer nel nostro giardino così tanto pesfizio tanto pesfizio acquistiamo il bulldozer grande così si l'ho acquistato questo ci trapana con le telefonate hai la macchina ma per usarla devi ancora passare l'esame bene dovrebbe esserci un segnale di esame vicino a te interagisci con questo segnale e inizierai l'esame per il bulldozer allora aspetta che il segnale eccolo qua ce lo indica come scenare il nostro obiettivo è il momento di controllare le tue abilità di guida del bulldozer lascia fare che figurati se noi non sappiamo guidare un bulldozer allora il bulldozer è questo dobbiamo passare sopra i posti di blocco che magari è tradotto un po' così perché i posti di blocco pare brutto demolisci le pareti di mattoni e appiane i mucchi di sporcizia allora saliamo sul bulldozer mouse andiamo su e giù quindi l'utilizzo è anche un po' più semplice rispetto magari a quello che abbiamo visto in gold rush dove effettivamente ci voleva un bel po' per utilizzare i macchinari quindi noi facciamo prima questo percorso spacchiamo tutto grande così meglio questo che il martello sicuramente comunque grazie mille a rogue knight per la sottoscrizione grazie mille rogue o knight o rogue knight trammi va bene grazie mille per la sottoscrizione e intanto noi ci facciamo questa scuola guida sportiveggiante pensa una scuola guida dove ti dicono distruggi tutto bellissimo appiane i mucchi di sporcizia che sarebbero questi sì cioè semplicemente ci impantaniamo nella terra e la eliminiamo per magia ma va bene va bene questo è l'importante col bulldozer si può fare tutto allora compito eseguito vabbè come vedete come vi dicevo prima la percentuale si riempie più presto del completamento totale quindi possiamo lasciare alcuni spazi alcuni muri non distrutti se può fa se può fa va bene grande così abbiamo la patente abbiamo la patente per il bulldozer molto semplice ok va bene non ci ha dato niente vabbè abbiamo già tanto che non ci ha fatto pagare a noi la patente quindi tutto sommato ci può anche stare come cosa può investire con tanti per acquistare dei terreni dai è questo aspettate un attimo fatemi rispondere penso che tu sia pronto dovrebbe essere disponibile alcuni contratti nel menu scheda lavori completali per ottenere più soldi perché non sto lavorando beh ti procuro i soldi sono più di un investitore ma non ti preoccupare ti darò dei suggerimenti lavorando per ottenere migliori offerte all'estero i contratti non sono l'unico modo per ottenere contanti prova a raccogliere rottami con il tuo pick up o acquistare un robot con martello pneumatico per rompere alcune rocce con pepite d'oro basta che controlli i cerchi verdi sulla mappa quindi possiamo diversificare un po' il nostro il nostro business sta di fatto che adesso andiamo sulla mappa e vediamo un pochino di scoprire un po' di cose allora qui vendono utensili qui non lo sappiamo perché c'è il punto interrogativo allora i punti interrogativi diciamo che sono delle zone vabbè che dobbiamo scoprire poi ci dirà i punti interrogativi con il cerchio rosso sono quelli dove ci sono delle missioni aspetta no non voglio un taxi oddio in realtà ci potrebbe pure stare questo non l'abbiamo ancora scoperto sta zona ci spostiamo nel negozio di ristrutturazione poi ristrutturato in realtà così poi andiamo a prendere un veicolo ce lo facciano trasportare direttamente da qui col simbolo parking e poi andiamo qual è quello più vicino a noi possiamo andare a vedere questo qui che roba è magari facciamo passiamo qua si accetta segnalo però passo dall'altro lato così almeno scopriamo cos'è questa cosa qui davanti saprei aspettate che passo da qua eh no l'ho sentito però i prezzi al momento sono ancora un po' altini cioè non rientra nei miei piani al momento faccio come detto il giro largo così scopro cos'era questa cosa anche perché poi ti dà la possibilità di trasferirti in modo più veloce in zona aspetta che posso passare da qua ma si abbiamo il pick up che ce l'abbiamo a fare aspettate che vado anche qui ok scoperta stazione di servizio ce la segna sulla mappa si ci ho messo un pochino però ce l'ha segnata occhio attenzione allora abbiamo raggiunto l'obiettivo questo è il nostro primo lavoro in questo lavoro ci sarà da sporcarsi abbiamo comprato alcuni bagni pubblici ma sono in uno stato terribile rimuovi le toilette e le piastrelle alle pareti ci dà 1500 euro quindi tutto sommato sono buoni soldi e questi sono i requisiti perché poi più avanti ci saranno lavori che magari richiederanno un macchinario particolare per il momento ci arrangiamo con la nostra mazza qua e vediamo allora prima di tutto rimuovi i cavi elettrici e porta i radiatori nel container allora iniziamo a prendere i radiatori bisogna fare prima un po' di pulizia e poi iniziamo con modalità demolizione allora aspetta che intanto spacchiamo anche un po' di cavi ce l'ha detto ce l'ha detto lui noi che li spacchiamo a gratis altri radiatori eccoli premendo R poi possiamo vedere quello che ci manca quello che dobbiamo distruggere allora facciamo così già che siamo qui c'è un altro qua dentro no stanno di là allora butta nel cestone questo è è fatto aspetta vabbè ormai ce l'aveva e basta togli sto cazzo di coso ci è rimasto attaccato alle dita trasporta i radiatori barra termosifoni così come se niente fosse eeeh allora dobbiamo demolisci accessori idraulici e le piastrelle quindi dobbiamo spaccare tutto in sostanza vetro eh qua tocca un po' lavorare poi naturalmente ci attrezzeremo anche con altri oggetti che permetteranno la distruzione più veloce di queste cose qua le piastrelle le togliamo dal basso così vedete che quelle sopra crollano le piastrelle in realtà dovrebbero essere attaccate tutte al muro però va bene così eh ci facilita il lavoro anche perché se no stai fresco spaccare le piastrelle già qua dobbiamo fare un bel po' di lavoro quindi una delle prime cose che dobbiamo comprare poi andiamo nel negozio di utensili vi faccio vedere sarebbe eventualmente il martello pneumatico perché qua sfondiamo tutto col martello pneumatico spacchiamo anche lo specchio che porterebbe sfiga in linea teorica ma i suoni vanno un po' così va bene aspetta metto basso così andiamo direttamente alle fondamenta del lavandino grande così aspetta che ci siamo incastrati nelle rovine allora sono estremamente infognanti ma di brutto e quindi faremo delle rubriche cioè delle miniserie serie non lo so dipende un po' anche da dalla voglia perché poi se ci rompiamo i maroni sti cazzi allora aspetta dobbiamo scassare anche la porta scusi c'è una cosa veloce vai così vai anche il vater via eh queste sono molto diversi giochi che potremmo proporre a Dmax glielo diciamo guarda tutte quelle serie che fate voi se volete so farle anche io in game naturalmente la mazzetta sarebbe una caciara spacca tutto la fatigace spaccheresti le mani più che altro mazzetta comunque grazie mille anche a Giuntiliano per la sottoscrizione per il sesto mese 180 giorni di sporteggianza hai in mente qualcosa per i 300k ancora no onestamente non so se ci sarà qualcosina vedremo vedremo occhio mattonellate sui denti ci manca aspettate vabbè quei pezzettini là sotto io per il momento li lascerei perché è possibile che non sia necessario come detto la percentuale di rottura deve essere per forza 100% di tutto quello che rimane quindi però se questo mi blocca la strada mi porto a ci vai con cattiveria contro il water aspetta che questo ci è rimasto come vedete qualche pezzettino è rimasto però vediamo se può bastare se no poi ci ripassiamo quindi prima di tutto converrebbe vabbè poi passiamo alla zona utensili e qualcosa ce l'andiamo a comprare cioè costerà parecchio presumo al momento abbiamo veramente pochi soldi dobbiamo aspettare un pochino no diciamo che non è che mi ci metto più di tanto in queste cose farei solamente dei da farei questo quindi probabilmente non sarebbe una buona cosa sarebbe meglio evitare altrimenti la situazione potrebbe degenerare mi chiamano per distruggere delle robe ben volentieri ma poi montarle un po' come quando smonti qualcosa e poi dici perché avanzano dei pezzi erano superflui probabilmente o probabilmente no ma va bene noi diciamo che era qualcosa in più dai però non mi buggate queste porte malefiche poi come un calcio la roma mi scusi vabbè no kingdom lo riprendiamo come detto ora oggi mi andava di portarvi questo però kingdom sto aspettando anche qualche attenzione la paperella che tra l'altro è identica a quella di rise of insanity che poi tra l'altro c'è anche in hitman cioè hitman è precursore delle paperelle ma va bene se non avete visto rise of insanity provatelo a vedere sul canale sul primo canale poi vedo un pochino perché come detto ho altri horror anche da proporvi c'ho un sacco di robe da proporvi però sono una persona sola quindi è un po' difficile riuscire a fare tutto le piastrelle le abbiamo completate quindi va bene così siamo rimasti accucciati ok facciamo in caso solo questo grazie mille ad ergoot per la sottoscrizione diciassettesimo mese attenzione abbiamo una sottoscrizione devastante per il diciassettesimo mese grande così grande ergoot grazie per il sostegno nell'arco dei mesi barra anni abbiamo sforato i dodici mesi quanto manca per tisu pelletti quali mortacci vostra dai dai che va bene non è vero secondo me dobbiamo andare a raccattare tutti questi pezzettini che abbiamo lasciato in giro non tutti magari questo si però questo si tac il vetro e aspettate come faccio dei danni grazie mille anche a Fabiusplay per la sottoscrizione grazie mille Fabiusplay e grazie mille anche mbart per la sottoscrizione per il sedicesimo mese quindi qui grandi numeri attenzione 17 16 mesi grazie anche a chi si sta sottoscrivendo per le prime volte naturalmente sperando che vi possa piacere quello che proponiamo qui su twitch per supportare anche per l'arco appunto di tutti questi mesi quello che che si fa qui su twitch attenzione abbiamo completato i nostri compiti grande così a posto ci paga forse si ok ok grande così primo lavoro manovale proprio ci ha dato anche 532 dollari di bonus cosa che apprezziamo tantissimo e adesso ci facciamo magari una visitina nel negozio di ferramenta quello che vende materiali che ci possono essere utili per velocizzare magari il nostro lavoro credo credo forse ci possiamo spostare anche in modo automatico yes prendiamo il taxi dov'è eccoci qua si qualcosa la compro direttamente tanto come detto ho già spippolato un pochino il gioco quindi qualcosa magari me la me la anticipo abbiamo al momento la mazza e la chiave inglese la chiave inglese se hai bisogno di riparare una macchina questo è lo strumento giusto ad esempio il bulldozer se noi andiamo a sfondare un muro piano piano quelli cascano sul bulldozer e lo danneggiano un pochino la chiave inglese così come anche la saldatrice servono per aggiustare il veicolo se abbiamo sfondato eventualmente grazie mille anche a Nellolandia per la sottoscrizione grazie mille Nello quindi compro il martello pneumatico che ci aiuterà a demolire tutto quello che abbiamo visto adesso poi abbiamo la smerigliatrice che è utilizzata per tagliare materiali duri come calcestruzzo o metallo pistola sparachiodi per rinforzare il legno e cariche esplosive non c'è bisogno di dirlo così per festeggiare il capodanno naturalmente martello pneumatico acquistalo va acquistalo 1500 dollari sapete che quasi mi compro anche la smerigliatrice che ci potrebbe essere utile per lavori guarda la compro facciamo spesa a sti cazzi un saluto un saluto a chi va un saluto grazie mille come sempre per aver seguito poi come sempre ritrovate sul secondo canale queste live se volete lavorare mia compagnia qua ci siamo dove dov'è che posso andare aspettate ci spostiamo direttamente con il taxi eventualmente altri lavori altri lavori parcheggio custodito il parcheggio custodito invece è una cosa che possiamo acquistare e poi ci darà dei soldi piano piano in realtà sono pochi soldi questo invece non lo sappiamo cos'è effettivamente garage vecchio casino in realtà anche questi dovrebbero essere dei lavori vorrei dire una stronzata ma in linea teorica vabbè il vecchio casino già l'abbiamo fatto però qui davanti ci andiamo a piedi dai tanto su due passi ci dovrebbe essere questo che non è assolutamente un lavoro vabbè come non detto come non detto andiamo qua va qua c'è qualcosa da fare credo che sia un parcheggio da acquistare in realtà un parcheggio da acquistare scoperto casa in legno aspetta fatemi vedere il tutorial che ci dice materiali richiesti alcune proprietà richiedono acquisto e la consegna di materiali puoi vedere dove si possono acquistare e caricare materiali ok questo lo vedremo più avanti ora siamo ancora in una fase molto molto meno avanzata questo penso sia l'unico stabile dove possiamo andare a lavorare al momento qui ancora non l'abbiamo scoperto non l'avevo vista e gli altri sono un po' più distanti questo è il nostro ufficio ci trasferiamo qui prendiamo il nostro macinino e ce ne andiamo dov'era il cosa del parcheggio qua mi faccio portare il pick up e ci trasferiamo pick up eccoci intanto si è fatto anche un po' notte direi allora fatemi vedere eh non l'ho segnato sulla mappa però possiamo andare direttamente a destra poi all'inizio i lavori per fare un po' di moneta saranno un po' ripetitivi in alcuni casi tipo questo ci ricapiterà più volte di doverlo fare però tutto sommato ci può stare salon vintage tra l'altro il nostro obiettivo attuale ottieni il rating aziendale di per ottenere il rating acquista proprietà ottieni pn aziendale cioè patrimonio netto di 400 quindi lo faremo un po' più avanti sblocchi la filiale della società a dorfenberg che è appunto quello che vi dicevo che c'è un'altra mappa diciamo così noi al momento il rating è il più basso nella storia delle aziende vabbè abbiamo aperto da poco tra l'altro che poi abbiamo aperto noi siamo dei semplici manovali è quell'altro che passa la moneta comunque abbiamo usato questo vecchio saloon come attrazione turistica tuttavia in questo stato può collassare in qualsiasi momento demolisci il saloon grande così accetto ben volentieri andiamo a vedere alcuni siti di demolizione richiedono il controllo della polvere per ridurre i livelli di polvere spruzza l'edificio con acqua prima della demolizione raccogli il tubo flessibile usa il pulsante di accensione alternativo tasto destro del mouse va bene prima però di demolire come vedete dobbiamo togliere le sedie da qua dentro e demolire i tavoli e rompere le finestre dobbiamo fare un po' dei danni come sempre allora intanto spacchiamo i tavoli che questo quando si tratta di distruggere adesso andiamo con la mazzetta è più comoda la mazzetta per queste cose perché colpo anche per i vetri il martello pneumatico non li rompe ho già provato portiamo le sedie qui che poi dobbiamo demolire tutto spiegami perché ti devo portare le sedie singole che fai le vuoi riutilizzare ne dubito ne dubito però chiediamo quello che ci hanno chiesto quella sedia sta per volare via ok andiamo la piazzare qui altra finestra da scassare tutti e tre i vetri ormai questo non l'ha rotto allora aspetta e poi come detto vediamo se al momento sono le 6 non so se faremo uno skip con un altro gioco se porteremo oltranza questo poi vediamo poi vediamo anche perché poi come vi dicevo ve li riporterò tra virgolette con calma sul secondo canale perché se magari un pomeriggio non ho voglia di registrare magari dico vabbè facciamoci una live già oggi siamo partiti abbastanza presto ero indeciso se preparare qualcosa per le 18 sul primo canale però ho detto facciamoci una live che è da un po' che non ci facciamo una chiacchierata i simulatori ne ho visti millemila quindi ricordarsi è una parola ok ora demolisci il vecchio saluno usando il bulldozer aspettate che ce lo facciamo portare dal non so da chi onestamente ma ce lo facciamo portare e basta va bene così veramente Monster Hunter World è uscito un paio di giorni fa il video lo trovate sul canale allora alcuni si fa beh la stessa cosa che mi hai detto prima quindi noi allora questa cosa ragazzi già l'ho provata nel senso che l'idea sarebbe appunto quella di non distruggere la manichetta ma prendere la manichetta sparare l'acqua in modo tale che non si alzi la polvere se si alza la polvere diciamo che vi va a vi fa pagare un pochino le spese del non so se dell'impresa di pulizia che cazzo sia impresa di pulizia in mezzo al deserto non credo però in linea generale ho visto che conviene far salire la polvere vedete e sbatterse nelle palle perché tanto se no dovremmo andare ogni volta scendiamo qua andiamo a manichetta prendiamo la manichetta spruzziamo da tutte le parti cioè è una gran rottura di coglioni quindi calcolando che quando si va a demolire il saloon o anche altre cose del genere si guadagna abbastanza bene ho deciso che sti cazzi la polvere poi come detto sappiate che per non far alzare la polvere e non prendere la multa la multa diciamo dei soldi in meno dovete utilizzare quello però vedete quando andiamo a demolire queste cose ci dà dei soldi già per tutto il legno che andiamo a togliere poi qua io ho visto che se riusciamo a farlo la tecnica tra virgolette sarebbe quella vedete di prenderlo per pelo perché se entriamo troppo nel muro ci si blocca la cabina con la parte di muro superiore non è facile perché naturalmente quando andiamo a distruggere tende il bulldozer a essere a incastrarsi perché è naturale che si vada un attimino a impilare ma noi ce ne sbattiamo i maroni e spondiamo tutto come se non ci fossero domani quindi cerco di passare vedete prima all'esterno in modo tale da togliere poi dobbiamo distruggere anche il recinto lo facciamo dopo ok vedete qua la polvere sia la polvere potete notare che il nostro bulldozer adesso è al 70% di salute nel senso che giustamente crollandogli sopra l'edificio piano piano si danneggia è una stronzata perché poi alla fine usiamo la nostra chiave inglese che magicamente va a riparare tutto aspetta no butto giù pure questo mi scusi e ok allora andiamo anche con il recinto che dobbiamo distruggere aspetta un attimo facciamo manovra eccoci qua con questo tratto abbiamo un pezzo di ecco avevamo un pezzo di saloon sul nostro bulldozer grande così allora la distruzione ci sta siamo nati per distruggere lo facciamo con estremo piacere olè compito è stato completato possiamo scendere e faccio vedere anche la chiave inglese cliccando qua cioè vedete due smandrappate il bulldozer è come nuovo va bene così ok anche questa è fatta anche questa è fatta vedete cioè la multa è di 350 dollari neanche la rottura di palle di scendere prendere l'acqua tirare risalire riscendere 350 dollari su 4.9 che ce n'ha dati sti cazzi quindi va bene così way out penso di sì allora ci saranno poi delle cose da costruire io sono arrivato fino a un certo punto e avevo costruito tra virgolette qualcosina qualcosina poco avevo costruito però qualcosina sì quindi presumo che se si chiama demolish and build più avanti dovremo costruire un bel po' di cose penso eh penso comunque comunque adesso noi andiamo sempre sulla mappa e vediamo un pochino che altro lavoretto possiamo fare perché fatemi vedere un attimo questo questo non l'abbiamo proviamo ad andare eventualmente qui dobbiamo scoprire la zona vabbè ci andiamo col pick up anche se ci possiamo trasferire lì di fronte dove c'è il nostro ufficio ma un giro ce lo possiamo fare quindi dobbiamo ottenere il rating aziendale di e per farlo dobbiamo acquistare anche delle proprietà come ci ha detto lo fare aspetta che ma perché non fa questo movimento il nostro macinino comunque va bene questa credo sia un'altra zona da distruggere che dobbiamo fare qua eh qua non abbiamo il robot da demolizione quindi non ci dà il lavoro maledizione quindi quindi questo non lo possiamo ancora fare il robot da demolizione non possiamo permettercelo adesso quindi quindi dove possiamo andare questo cos'era parcheggio custodito il parcheggio custodito è da acquistare ok Grazie.